Space Valley! Tutti martedì e giovedì alle ore 14 e la domenica alle ore 11 L'appuntamento con il bollino verde adatto a tutta la famiglia A tutti quanti voi, ovviamente, amici della galassia Mi raccomando, non perde... Non fai tempo a allontanarti un attimo dagli studi che trovi Sempre sto cretino che dice cose Che sorpacchi E' fino a questo posto Al tavolo di Space Valley Eh, sì, ma... Quindi che cavolo è questo Space Valley? Non lo so La descrizione del canale su YouTube è Space Valley è il talk show che intrattiene, informa, provoca, unisce, sperimenta, analizza, beve dalle tazze Spara laser, c'è un set dietro, un buco nero in cui perdersi, un team, un salotto, delle luci, una porta E c'è anche la cucina Non so quanto prima Iscrivetevi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti